In questo video ragazzi proveremo i due nuovi petardi arrivati da Sarro Ragazzi abbiamo qua i Chuck Doom P1 e i Chuck Doom 17.2G Due nuovi petardi aggressivissimi appena arrivati su Sarro Varrà la pena, non varrà la pena, in questo video lo scopriremo E li confronteremo con i loro diretti competitor Demon e Mini Thunder Buongiorno a tutti, benvenuti a Pirotecnica Torretta, io sono Nico, in camera abbiamo Samu Bella ragazzi Oggi un confronto molto gustevole Attesissimo Come dice qualcuno a MasterChef, molto gustevole perché abbiamo i Chuck Doom Che voi direte, cos'è questo petardo nuovo? Dove arriva? Che cos'è? Guarda quanto è cattivo con quel teschio, cattivissimo, grafica veramente figa Che cos'è? Un bel petardone 11,7.2, qualcuno nota somiglianze? Vediamo un attimo Assomiglia per caso a qualcosa? No Somiglianze? Non credo proprio E quindi eccolo qua, allora vediamo già innanzitutto Assomiglia molto al King ragazzi, perché? Perché assomiglia molto al King? Beh, il mistero si svela molto facilmente ragazzi La produzione, il produttore è lo stesso Se andate nell'etichetta, cosa che vi consiglio sempre di fare Vedrete che troverete nome commerciale Chuck Doom Che è quello che è riportato e per cui è venduto Ma il nome legale con cui è registrato l'articolo è Mini Thunder Infatti questo qua è il Mini Thunder prodotto da Chiarappa Prodotto da Chiarappa per sarro Stesse specifiche tecniche, lo vedete Miscela flash un grammo per pezzo, quindi quello che esplode Poi 16,2 grammi per pezzo di ritardo Che fanno 17,2 grammi totali Che è quello che c'è scritto sul petardo stesso Però ti dico già due cose che stavo guardando Vabbè, innanzitutto la furbata di sarro di mettere 17,2 17,2 ovviamente come abbiamo detto 16,2 sono fiamma Però vedevo una differenza che magari Tu mi dici sei pazzo tu Ma se li mettevo così Guarda dentro Mi sembra che quello di sarro È un pochino più avanti come pressatura Dici che è un po' più giù il tappino? Sì, è un po' più giù il tappino secondo me Ma adesso li andiamo a provare e vediamo un po' se c'è qualche differenza Assolutamente sì, li andremo a provare ragazzi E faremo non soltanto il test al fonometro Ma anche la pesatura della grammatura Un test a orecchio per capire se la differenza Ha sensazione Esatto Quella che ci interessa veramente è quella La sensazione di botta che dà ragazzi Esattamente Se si sente realmente Questi sono i due Se andate sulla scatola dei Mini Thunder Vedrete che anche di qua sono riportate Le medesime specifiche tecniche Sì, sono uguali ragazzi Qua Nome commerciale Mini Thunder Mini Thunder Nome articolo Nome legale Sempre Mini Thunder Stesse grammature Tutte esattamente identiche Sono identici ragazzi Esattamente Adesso vediamo se nella realtà Io ne proverei magari Ne proverei uno in In fase così diurna E poi magari per vedere la fiamma Anche di notte Ci sta, ottima idea Ma passerei adesso agli altri due Ah sì, perché non è finita signori Mettiamo via i Big Big Papa e Big Mama Tiriamo fuori questi due Qua Check Doom P1 e Daemon Daemon Li conoscete tutti Li facciamo vedere Al Fly Scatola da 20 pezzi Daemon Testina Ma adesso andiamo a vedere Il Check Doom No In che senso Sarro So close In che senso Ma scusa ma Voi direte avete riempito Voi i pacchetti No ragazzi L'abbiamo comprato E noi ci attendavamo Una grafica diversa Invece Ebbene sì ragazzi Purtroppo Purtroppo Sarro ha avuto Qualche Problema con il produttore Che è Manna Che non gli ha Brandizzato Il prodotto Ma Anche qua Farei vedere La stessa cosa Ragazzi Noi ci teniamo Perché sapete A volte Queste sono piccole cose Da nerd Che non tutti guardano Se andate sempre Sull'etichetta Vedrete che c'è Nomi Articolo Ptmanna1 Ptmanna1 Vedete È lo stesso Identico prodotto Beh in questo caso È ancora più eclatante Perché poi effettivamente Apri E il prodotto è quello Però Però Andremo a vedere La grammatura Ha svelato Qualche Andremo a vedere Andremo a vedere Anche quello E direi che adesso Allora è l'ora di Io inizierei Con il testa a pelle Subito Sì Poi pesatura della grammatura Poi testa al fonometro E poi notturno E poi notturno Direi che ci siamo Bene ragazzi Eccoci qua arrivati In rampa di lancio Laggiù abbiamo Il nostro Nico A 8 metri Di distanza Bella Di distanza Standard Per misurazioni Costanti Qua abbiamo Mini Thunder Check Doom Check Doom P1 E Daemon Adesso partiremo Con le misurazioni Al fonometro Bene ragazzi Iniziamo con i Mini Thunder Faremo tre misurazioni Di fila Sui Mini Thunder Per avere valori Più possibili Precisi E poi avremo Tre Check Doom Mini Thunder Al fonometro 118 118 118 119 119.7 Usti Usti Si va vicini Al 120 grammi Terzo Mini Thunder Al fonometro Ricordo che ragazzi La distanza È standard E per fortuna Oggi c'è un po' Di vento Che porta via Il fumo E ci aiuta A misurazioni Più precise C'è La telecamera Che scherza Un pochettino Oggi 119.4 119.4 Eh Mena forte Mena forte Ragazzi E adesso Il Lo sfidante Check Doom 17.2 G 120 120 120 Fischio 120 Il primo Scalza Il King Scalza Il King Adesso Andiamo Con la Seconda Misurazione Su questi Chuck Doom Scalza Il King È Successo Non ci crediamo Mai Successo 120 20.7 Scalza Nel King Incredibile Ma vero E avete ragazzi Come cambiano le cose A orecchio Sembra una cosa Ma il fonometro Non mente Check Doom 17.G Di nuovo Non saranno 17.2 G Di botta Ma Menano Decise 117.8 Ah Sai cosa Le esplosioni Lasciano nell'aria Dei detriti Che abbassano Il suono Quindi secondo me Il fumo Ha influenzato Un pochettino Ma anche Facendo la media Secondo me Chuck Doom Sono sopra I mini thunder Sì Poi Stiamo parlando Di Stiamo parlando Di così poco Che Non è percepibile No ma può essere Anche benissimo Che io ero 20 cm più vicino Al fonometro Tu eri un pochino Più vicino Di qua Quindi Diciamo che La percezione Sono Comunque abbiamo La prova Che sono lì Ci scriveva Un ragazzo Sotto un video Dicendo che Sotto 6 decibel Di differenza L'orecchio umano Non è in grado Di percepire La differenza Quindi ragazzi Sì Il Chuck Doom È leggermente sopra Al fonometro Scientificamente Però il nostro orecchio Non è in grado E non l'abbiamo assolutamente Provato in una zona Asettica Diciamo Senza rumori Senza abbio Ragazzi Già solo ste piante Il capannone Possono aver cambiato tutto Quindi Abbiamo provato a farlo Nello stesso momento Il più Simile possibile Il più precisamente Forse possiamo provare L'ultima cosa Accenderne Due Di fianco Attaccati Uno e l'altro Praticamente insieme Vedere cosa fa Il fonometro Però non so Se può essere Un modo Per provare Un'altra Un'altra tipologia Di test Diciamo Paura che non rilevi La seconda botta Può essere Può essere Può essere Tutto Vediamo Vediamo Intanto magari Gli altri Sì Magari Proveriamo I demon Dai Andiamo A vedere I demon Contro I Chuck Doom P1 Dentro ci sono Demon Ma saranno Perfettamente Uguali Chi lo sa Chi lo sa Ragazzi Ma prima Ragazzi Di andare Con i demon Andiamo Torniamo Un attimo In casa E andiamo Nel nostro laboratorio A verificare Le grammature Di questi prodotti Saranno uguali Non saranno uguali Stiamo per scoprirlo Sarà lui Sarà lei 0,36 Terza 0,39 Quarta 0,37 Quinta Quinta E ultima Pesata Dei Chuck Doom P1 Un barlume Di speranza 0,40 Ci si avvicina Ai 0,45 Ma siamo ancora Lontani Andiamo a vedere Adesso i demon A capire se c'è Una qualche differenza Sotto questo aspetto Primo demon 0,44 Partiamo Tre potenti Secondo 0,46 Terzo 0,41 42 Ocilla Stiamo mantenendo Sopra il 0,40 Quarto 0,47 0,47 di nuovo Beh Direi che Sotto questo aspetto Il vincitore Tra Demon E Chuck Doom Che 1 È piuttosto chiaro 1,13 Andiamo col secondo 1,46 1,12 Andiamo col quarto 1,41 Caspita Cioè sempre La possibilità Che sia andato dentro Un po' di spoletta Però caspita Tariamo Quinto Quinto E ultimo 1,07 Qua probabilmente La spoletta Teneva un pochettino di più Va bene Finito il testo sui militanti Soscillano tra 1,07 1,12 E 1,40 50 Adesso passiamo Ai Chuck Doom 17,2G Andiamo col primo 1,11 Qua mi sembra che Siano Essenzialmente Identici Tariamo 1,22 Il più basso Prima L'aveva fatto 1,07 Il più alto Sopra 1,40 0,97 Caspita Andiamo in basso 1,23 Ed eccoci tornati in rampa di lancio ragazzi Devo dire che non mi aspettavo queste differenze di grammature Tra i Demon e i Chuck Doom P1 Soprattutto perché dovrebbero essere lo stesso bestardo Ci sono dentro Demon Fra il resto forse mi sembra No no è il faretto Non mi aspettavo queste differenze E non mi aspettavo le differenze anche tra Mini Thunder e Chuck Doom Anche se avendo vista la prova al fonometro Forse forse il tutto ha un po' più senso Direi di andare con i Demon Adesso Al fonometro Mercoledì 117.8 Fischius Aggressivo al fratellino E qua l'altro Va bene Secondo test sui Demon 116 116 Cala un pochettino Rispetto ai 117.8 Terzo test 116.5 116.5 Ok Avete visto dalla pesatura delle grammature Che variano tantissimo le grammature che ci sono dentro Ce ne erano alcune da 0.4 Altrui da 0.49 Questo forse giustifica le differenze che stiamo rilevando al fonometro Comunque direi che siamo attorno ai 116.5 circa Andiamo col primo Chuck Doom 116 116 Spaccato Secondo petardo Chuck Doom P1 C'è la telecamera che scherza 115.7 115.7 E caliamo Caliamo Si conferma il trend Dimostrato dalla grammatura Stiamo avendo valori più bassi sui Chuck Doom P1 Andiamo con l'ultimo 116.4 Ed è sotto Chuck Doom P1 sono sotto ai demoni in media Si conferma il trend della grammatura La pesatura della grammatura evidenziava che avevano meno polvere i Chuck Doom P1 E in effetti sono demon che non sono demoni Si non so queste differenze a fonometro quanto puoi effettivamente Gli vorrei sentire live che dici Proviamo invece a farne Sparne due live Vediamo all'orecchio che ci dice Senza fonometro Senza fonometro si così Ha sensazione Vediamo che ci dice E ti dico non metto neanche la cuffia per Vai Sentire Vai Questo è il demon vero A orecchio demon vero Ok Ok Chuck Boom A orecchio Chuck Doom È lì È rimasto anche quello lì Bene Cambia una ciolla Non cambia niente Mi spiace dirlo Non cambia niente Proviamo stessa cosa con i ragazzuoli È una differenza che lo strumento riesce a rilevarla Perché ha una precisione superiore Ma al nostro orecchio non sente minimamente Guarda questi li faccio più ravvicinati Così che adesso Ci sta fonometro non ce l'abbiamo No parto col chiara Appa lo lancio lì Ok E poi vado con l'altro Vai Magari mi metto In questo caso Forse la cuffia Ci vai? Va bene Io darò la rilevazione a orecchio Ah no è vero Dobbiamo fare la rilevazione a orecchio Allora no Giusto Quindi chiara Appa primo Chuck Doom Secondo Sono lì È attaccati Cambiato una ciolla Ma al Chuck Doom La spoletta è durata Dura di più Ma l'ho visto anche prima Con il fonometro La spoletta del Chuck Doom Dura un pochino di più Qualche secondo in più Non cambia niente ragazzi Uguali È uguale È uguale Esattamente uguale E Sono belli tutti e due Bisogna dire la verità Ovviamente È un degno Sfidante del Mini Thunder Perché è un Mini Thunder Signori È questa è la verità È questa Vi direi che però Visto che Avete seguito il video Fino ad ora Vi direi che vi spariamo Uno stellone violento No Aspetta Sotto il capannone Ma abbiamo ancora il test Di tutto un pacco in uno Ah Però Mentre andiamo a recuperarlo Vi facciamo un Mini Thunder Nel capannone Scusa Giusto per far saltare I timpani a tutti quanti Però io vorrei le cuffie qui Sì sono lì Sono lì caro Si conviene prenderle lì Questo sarà illegale No ma io voglio vederlo In mezzo al capannone Quanto mi fa 122,6 Un botto attirato tra l'altro Ma illegale Con le cuffie Ripiazzalo lì Che vado a prendere I due regalini Piazziamo giù Il nostro fonometro Ragazzi adesso siamo Su un fonometro Molto più professionale Sollevato da terra Come dovrebbero avvenire Le misurazioni Adesso sta prendendo Il Mini Thunder Tutto in uno E il Chuck Doom Tutto in uno E questi faranno Una gran bella botta Avete visto ragazzi A livello di orecchio Non cambia niente A livello di grammatura C'è qualche differenza Fonometro rileva questa differenza Ma non è sufficiente Da essere rilevata Dal nostro orecchio Ragazzi abbiamo preso Un'altra scatola Di Mini Thunder C'è arrivato qualcosa di strano C'è arrivato qualcosa di strano E c'è scritto Pyro is not a crime Ma È destino E niente ragazzi Vanno provati Vanno provati Vanno provati Vanno provati Magari Non lo metterei qua Hai ragione Può essere una buona idea Vai Fai tu Ah no faccio io Devo andare a vedere il fonometro Questo invece te lo lascio Per il prossimo giro Che ce lo gustiamo In maniera gustevole Come dice qualcuno Perché Poco più in lì Poco poco Va bene Vediamo ragazzi Se questo Mi sarà veramente Super O molto super Fischia Wow Ma quanto il fiato 123 Fico Ti è arrivata l'aria Ma che pezzo era No zio Ma ha tolto il fiato Te lo giuro Bellissimo Mamma mia Raga E adesso ha orecchio Aspetta Raga Il sasso era qua Mi ce l'ha spostato Il sasso era qua Raga È andato là Ma tu Questo lo voglio nel capannone Voglio far venire giù il capannone Qua vieni A orecchio giusto qua A orecchio Voglio far venire giù il capannone A orecchio Voglio far venire giù il capannone Tu devi stare dentro il capannone Con il Sì contaci 120 Cos'è? 123,6 L'ho detto nel Comunque l'ho detto Quindi Raga Comunque è pazzesco No Questo è problematico però Questo viene giù il capannone Secondo me Guarda che c'è il barattolo di fianco Chissà se lo sposta Lì mi metto dietro di te Non ho visto lì Non ho visto il fonometro No raga Una bomba sembrava Madonna All in one Ma è partita Una Un allarme È partito un allarme È partito un allarme No zi Mi hai fatto partire No sono i grilli No Ma che grilli Vabbè Abbiamo svegliato tutta la fauna del parco Speriamo ragazzi Che vi sia piaciuto questo video È un poco cazzone Con questo risveglio Ce ne andiamo via Prima che succeda qualcosa Ciao ragazzi Ricordatevi di seguirci su YouTube Telegabilia Tutti i nostri social Dateci una mano E ringraziamo Aspetta Bravo Ringraziamo E salutiamo Tre ragazzi Che si sono abbonati Assolutamente Ho sostenuto tantissimo Allora Ringraziamo Marco Danilo Michele Che sono abbonati Da quasi un anno Ragazzi Grazie Grazie mille Grazie del vostro sostegno Vi ringraziamo Perché grazie a voi Che continuiamo a portare Questi video E speriamo vi sia piaciuto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi